Nel giro di poche ore Gela ha pianto due dei suoi figli, rimasti vittime di due incidenti stradali avvenuti nel corso della giornata di domenica. Nelle prime ore del mattino ha perso la vita il collaboratore scolastico in pensione Roberto Tandurella, 66 anni. Quest'ultimo stava percorrendo la Gela Manfri a bordo della sua motocicletta quando si è scontrato con una Opel all'altezza del distributore GB Oil. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 di Niscemi, gli agenti della Polizia Municipale e della Polizia di Stato, che dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nella notte invece ha perso la vita un giovane di 17 anni, Rocco Bellia, il quale stava percorrendo la strada che porta all'imbocco con la statale 626. Il giovane, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo a due ruote che è finito fuoristrada. A causa dei traumi riportati nell'impatto con l'asfalto, il giovane ha perso la vita mentre il passeggero che viaggiava con lo sfortunato 17enne non ha riportato ferite gravi.